Ci sono momenti in cui vuoi sentirti libero da tutto. Momenti in cui impugni il manubrio e percorri la strada. La tua strada. Le vibrazioni attraversano il corpo e arrivano al cuore. Il battito aumenta, i sensi si amplificano. E quando senti l'asfalto a un soffio dai tuoi piedi, ti accorgi che è l'adrenalina a dominare le emozioni. Dietro ogni orizzonte, trovi sempre una nuova strada da percorrere. Grazie.